Sarà la conferenza stampa del segretario generale Stoltenberg prevista alle 15 ad aprire il vertice della Nato oggi a Madrid che ospita uno dei più delicati e difficili appuntamenti della storia dell'alleanza. Nel pomeriggio l'incontro tra Turchia, Finlandia e Svezia con l'obiettivo di superare il veto di Ancara sull'adesione all'alleanza dei due paesi nordici. Domani il vertice entrerà nel vivo, ma intanto una prima minacciosa risposta arriva dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev. La Russia non si inchinerà all'Occidente se la Nato mette piedi in Crimea, se andrà alla terza guerra mondiale.